Carlo Bagnasco primo eletto, elezione del Consiglio Metropolitano di Genova, 18 le persone che costituiranno il nuovo Consiglio Metropolitano di cui è sindaco Marco Bucci, primo cittadino di Genova, netta affermazione del centro-destra. E' tornata l'acqua a Sestri, ripristinata l'erogazione in via nazionale nel tratto di Corso Colombo, rimasti a secco per tutta la giornata di ieri a causa di un guasto alla tubatura dell'acquedotto nell'ultimo tratto di via nazionale all'altezza dell'incrocio con via Traversaro. Totti realizzi il tunnel atteso da vent'anni, Val Fontana Buona ha presentato un ordine del giorno dal Movimento 5 Stelle in Regione. Buonasera dal TGT Guglia, apriamo con la politica, lo spoglio delle schede, il conteggio dei punti relativi al Consiglio Metropolitano è chiaro, per Forza Italia netto primo posto per il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, seguito da Guido Guelfo. Si è svolto questa mattina lo spoglio delle schede relative alle elezioni del nuovo Consiglio Metropolitano di Genova. Alta l'affluenza le urne, ieri ha votato il 76,68%, nei comuni minori ha votato poco più del 50%, 4 le liste in lizza, Avanti Tiguglio, coalizione civica per la città, metropolitana, patto metropolitano per la città metropolitana, 18 le persone che costituiranno il nuovo Consiglio Metropolitano di cui è sindaco Marco Bucci, primo cittadino di Genova. I 18 sono Carlo Bagnasco, Guido Guelfo, Stefano Anzalone, Adolfo Olcese, Salvatore Muscatello, Enrico Piccardo, Simone Ferrero, Claudio Garbarino, Franco Senarega, Roberto Cella e Agostino Bozzo. Si configura dunque una netta vittoria del gruppo Bagnasco-Muzio. Cinque invece gli eletti per la coalizione del centro-sinistra. Elio Cuneo, Maria Grazia Grondona, Stefano Damonte, Claudio Villa, Enrico Pignone per la lista di sinistra, Daniela Tedeschi per la lista di capua, Antonio Segalerba. Ieri attorno alle 17, tre chilometri di coda sulla 12 nel tratto tra Recco e Genova Nevi per un incidente. La situazione è migliorata mezz'ora dopo, a seguire però di nuovo code a tratti tra Chiaveri e Genova Nevi per il traffico. Un incidente è anche nello stesso tratto nella giornata di oggi. Auto contro muro di una casa, un ferito a San Mattino. Il fatto è accaduto ieri a Cicagna. Grave incidente ieri mattina all'alba a Monleone di Cicagna sulla strada provinciale 225 della Val Fontana Buona. Un giovane alla guida della sua auto è finito fuoristrada e nell'urto si è procurato una sospetta frattura del bacino. E' stato trasportato in codice rosso al San Mattino di Genova. Il giovane, un 26enne, stava tornando a casa intorno alle 5 del mattino, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il muro di una casa. Sul posto l'automerica del 118 e i volontari della Croce Rossa di Cicagna, ma anche i carabinieri e i pugni vigili del fuoco del distaccamento di Chiaveri, che hanno dovuto estrarre il ferito dall'abitacolo dell'auto. Con lui non c'erano passeggeri e non risultano altri mezzi coinvolti. Le sue condizioni sono apparse gravi. In codice rosso è stato trasportato all'ospedale San Mattino di Genova. Andiamo a Sestri Levante, perché il comune fa sapere che sarà presente da giovedì prossimo, 12 ottobre, alla fiera TTG di Rimini, insieme a quelle di Chiavari e Framura. L'evento, come noto, è uno dei più importanti in Italia per la promozione turistica e per i tre comuni dell'Evante Ligure, sarà anche occasione per prendere contatti con gli operatori internazionali, gli espositori, in vista della seconda edizione di Discover Italy Meeting Suisse e Europe, di nuovo in programma all'abbazia dell'annunziata. Il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, sarà relatrice. Venerdì al convegno, come promuovere una destinazione turistica, e dice, un'occasione prestigiosa che vede riconoscere il significativo lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni. L'inserimento in questo momento di incontro sarà per me l'occasione per raccontare il pensiero che ha spinto l'amministrazione comunale di Sestri a creare questo percorso e come lo abbiamo portato avanti. Restiamo a Sestri, perché è tornata l'acqua in via nazionale. Ieri mattina si era rotta una tubatura. Ieri mattina un guasto alla tubatura principale dell'acquedotto ha provocato l'allagamento dell'ultimo tratto di via nazionale verso il centro di Sesti, zona Cadiferre, lasciando anche senza acqua corrente diversi condomini. L'intervento dei tecnici dell'acquedotto però ha risolto il problema in serata. Il traffico è stato deviato in via Traversaro fino al termine delle operazioni. Gli autobus con direzione Chiavari sono stati costretti a transitare a Lapide, via Fasce, via Baden-Powell, via Fasce, mentre il ritorno verso la frazione di Riva o Casazza è stato senza variazioni. Per quanto riguarda l'acqua potabile, i tecnici erano riusciti a farla tornare in diverse abitazioni, ma il problema perdurava nel tratto interessato di via nazionale e in parte di Corso Colombo. Un'autobus è addirittura stata posizionata in via nazionale. Lo scavo è stato riempito in serata. Le finiture questa mattina. Inaugurata questa mattina la nuova caserma dei Carabinieri di Torriglia, stazione che fa capo alla compagnia di Chiavari. Presente anche il ministro della difesa Roberto Pinotti, oltre al comandante regionale dell'arma, generale di corpo d'armata Tullio del 7. L'immobile era di proprietà privata, ma l'amministrazione comunale di Torriglia lo ha ristrutturato per le esigenze dei Carabinieri, concesso incomodato gratuito. La stazione dei Carabinieri di Torriglia esiste fin dal 1816. Il territorio di riferimento è montuoso. I piedi del monte Prelà, con le valli dei fiumi Trebbia e Scrivia, e il grande bacino del lago del Brugneto, per una superficie di circa 107 km2, una popolazione di 2729 abitanti. Andiamo in Val Fontanabuona, o meglio a Genova, perché si torna a parlare del tunnel della Val Fontanabuona, grazie ad un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle in Regione. Pronto un ordine del giorno per sollecitare lo studio e la realizzazione del tunnel della Val Fontanabuona. Lo annuncia Alice Salvatore, portavoce del Movimento 5 Stelle Ligure, a margine della commissione di questa mattina in Regione. Da vent'anni si parla del tunnel, dice la pentastellata. Politicamente siamo tutti d'accordo. Traversalmente parliamo dell'area Ligure, forse italiana, con il più alto tasso di presenza di imprese, 2.220 imprese per circa 1.500 abitanti. Purtroppo oggi sempre più isolate. Chi governa la Regione non sta facendo nulla, lasciando senza un collegamento fondamentale uno dei territori più produttivi di tutta la Liguria. Se il problema sono i costi elevati del progetto, esistono esempi virtuosi all'estero, esistono tecnologie più economiche e meno impattanti. Il Movimento 5 Stelle, afferma ancora Salvatore, è sempre stato a favore della creazione del tunnel. purché si tratti di un'opera sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. Come è messo anche dalle audizioni in commissione, in paesi come la Svizzera esistono anche sistemi di treni navetta per auto sul modello del tunnel del Vereina, che farebbero risparmiare forse un centinaio di milioni di euro, con impatti assai ridotti sull'ecosistema. Le soluzioni esistono già. Basta studiale e metterle in pratica affinché la Val Fontana Buona sia finalmente tirata fuori dall'isolamento. L'entroterra di Levante e l'emergenza occupazionale della nostra regione, conclude la grillina, non possono più attendere. Ora dovremmo parlare di sport e di calcio, ma vi rimando a stasera perché torna appunto a spot con la prima puntata, quindi stasera alle 20.30 su Entella TV, torna la trasmissione che dal 1991 racconta il calcio locale del Levante, Tiguglio, Golfo Paradiso e rispettivi entroterra. E' ancora in primo piano la paventata chiusura del punto nascita di Borgo Valditaro. Potrebbe esserci ancora un barlume di speranza. Infatti la regione può tenere aperto questo punto, nonostante il parere negativo del Ministero della Salute e della Sanità. lo si è già visto in alcune regioni e in primis in Lombardia. Una notizia che ci viene inviata dal consigliere regionale della Lega Nord, Fabio Rainieri. Sentiamo. La regione Emilia-Romagna può ancora mantenere aperto il punto nascita di Borgo Taro. E' stato il Ministro della Salute Lorenzin a ribadire alcuni mesi fa che il suo Ministero non impone alcuna chiusura poiché esprime solo pareri tecnici. La decisione finale spetta solo ed unicamente alle regioni. L'assessore regionale Venturi sia quindi coerente con le motivazioni che ha scritto nella richiesta di deroga e prenda la decisione di non chiudere il punto nascita del Santa Maria di Borgo Taro, dando finalmente il segnale concreto alle popolazioni delle valli del Taro e del Ceno che la regione non li vuole abbandonare. Con queste parole il Vice Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna ed esponente della Lega Nord, Fabio Rainieri, ha voluto riaffermare all'indomani del parere negativo ministeriale per la deroga alla chiusura dei punti nascita nelle zone montane dell'Emilia che vi è ancora un barlume di speranza per non far chiudere la maternità borgotarese. Il parere negativo dato dal Ministero guarda solo ed esclusivamente agli aspetti sanitari che, con adeguati investimenti, sarebbero sicuramente risolvibili. Ha quindi proseguito il consigliere regionale della Lega Nord. Vi sono anche altri aspetti sociali ed economici che non sono stati tenuti in debito conto, oltre a quello ideale, ma sempre importante, che togliere la possibilità di far nascere bambini in un territorio è un po' come togliergli la vita. Io sono nato a Borgotaro è la bella iniziativa partita ieri su Facebook grazie all'input di Marta Berzolla e che invita tutti coloro che sono per l'appunto nati a Borgo Valditaro di pubblicare su Facebook la foto del proprio profilo con la scritta Nato a Borgotaro per sottolineare la propria nascita presso il reparto di maternità dell'ospedale Santa Maria il cui punto nascita, come sapete, pare avere il destino ormai segnato. Intasate Facebook di vostre foto, dice il sindaco di Bercetto Luigi Lucchi, facciamolo tutti e dimostriamo che a Borgotaro sono nate persone che hanno un viso ed un nome e che non sono solo numeri come invece vengono considerati dal Ministero della Salute. Ed è proprio il sindaco Lucchi nel prossimo servizio, nella prossima intervista a non risparmiare aspre critiche su questa decisione. La bocciatura della proposta della giunta regionale della proroga per il punto nascite di Borgotaro da parte del Ministero della Sanità è una cosa gravissima. Non riguardo solo la sanità che è importantissima anche da un punto di vista simbolico, come si può vivere in montagna se non si può più nascere in montagna. Ma è anche il momento che dobbiamo farci sentire per davvero senza nessun tipo di strumentalizzazioni politiche. La posta in gioco è il sistema sanitario nazionale, che lo si vuole scassare definitivamente per privatizzarlo e non avere opposizioni contro la privatizzazione del sistema sanitario nazionale. Abbiamo i costi più bassi d'Europa sulla sanità, continuano a fare dei tagli, a usare dei termini obrobriosi come dire che meno di 500 nascite in un ospedale non sarebbero sicure. Queste sono delle sciocchezze da un punto di vista scientifico. Può essere sicurissima anche una sola nascita con i medici adeguati. Quindi ho scritto al Presidente del Consiglio Gentiloni, ho scritto al Presidente della provincia di convocare l'Assemblea dei Sindaci, sono disponibile con i mezzi di cui sono capace, ma sicuramente mezzi politici, spero di bella politica, di far capire che la montagna non vuole morire definitivamente. È stata intraprese una politica cosiddetta del carciofo, una foglia alla volta, ci stanno togliendo tutto, stanno distruggendo i comuni, hanno distrutto la provincia, hanno tolto il corpo forestale dello Stato, distruggono i treni, distruggono tutti i servizi che sono in montagna e adesso sono arrivati anche a distruggere la possibilità di nascere in montagna. Bene, oggi presentiamo i modelli nuovi della gamma ARRI, che sono i softi, concettualmente richiamano sempre le linee classiche ARRI, però per quanto riguarda il telaio è completamente nuovo. Ha un mono ammotizzatore sotto la sella, la cilindrata è cresciuta a 1.870 e nonostante il peso e la maneggevolezza rimane comunque sempre la stessa, ottima. Abbiamo delle moto in prova, sono qui disponibili e invito a provarle proprio per sentire le sensazioni che può dare l'ARRI Davidson oggi. È una sensazione unica, è una cosa diversa rispetto a qualsiasi altra moto, queste moto non hanno la metta delle prestazioni assolute eccetera, però si lasciano guidare, hanno delle cilindrate elevate, però con tanta copia ai bassi e quindi sono fantastiche da guidare. L'ARRI ha dei club ufficiali, solitamente sono legati alle concessionarie ufficiali, il nostro club si chiama Portofino Cost Chapter e qui abbiamo il direttore, il director, che vi illustrerà un attimo il nostro chapter. Ciao a tutti, sono Stefania, come diceva Marco, sono il director del Portofino Cost Chapter. Questi club nascono per essere da supporto alla concessionaria e quindi aiutare a promuovere quello che è il mondo Harley Davidson. Siamo legati alla casa madre e alla HOG, è per quello che per essere iscritti al chapter bisogna avere in primis la tessera HOG, essere iscritti HOG e poi ci si può iscrivere al chapter. Le finalità di iscrizione possono essere varie a seconda del club di appartenenza, di quello che si decide. In generale bisogna frequentare un po', vedere se ci si trova bene, se ci piace questo mondo, stare insieme a noi e poi ci si può iscrivere e partecipare ai nostri giri, andare all'eventi HOG. È un modo per stare insieme, per conoscere quello che è il mondo Harley, la passione che ci accomuna, lo stare insieme, divertirsi, insomma, è un bellissimo mondo. Bisogna provare per capire, quindi vi invito tutti ulteriormente, come ha detto Marco, a venire a provare queste moto per capire cosa vuol dire essere alla guida di un Harley Davidson. Questa domenica il nostro chapter farà il compleanno, il sedicesimo compleanno per l'esattezza, perché è nato nel 2001, nel settembre del 2001 e quindi sono ben 16 anni che siamo orgogliosi di portare questa bellissima scritta sui nostri gilets. Come potete vedere, Portofino, cost chapter forever. Domenica mattina ci incontriamo al nostro punto di incontro, il The Center, che è qua vicino alla concessionaria. Partiremo per un giro sull'Aurelia, semplicissimo, per raggiungere la piazzetta ovviamente di Portofino, dove abbiamo il permesso per arrivare giù con le moto, fare la foto di rito. Dopodiché ci sposteremo a Santa Margherita, che ci accoglieranno all'Anfiteatro Bindi, posteggeremo le moto in centro, in bella vista, e poi il ristorante La Cambusa ci attende per un bellissimo pranzo e poter festeggiare questi nostri anni insieme, tutti insieme, divertirsi e fare festa. Bene, non mi resta che lasciare le previsioni meta per la giornata di domani alla programmazione di Entella TV che prevede il ritorno di Punto Sport, come sempre qui su Entella TV. Ricordo che l'informazione locale dalla nostra emittente tornerà invece domani alle 12.45 e alle 14.15 con il TGT Guglio Gente, mentre in serata andrà in onda il TGT Guglio Tradizionale alle 19.30 e alle 22.45. Grazie per l'attenzione, a domani. Previsioni per domani, martedì 10 ottobre, soleggiato sulla costa, nuvolosità irregolare negli interni con locali più vaschi, specie nel pomeriggio, venti deboli dai quadranti meridionali, mare poco mosso, umidità su valori medio-alti, le temperature previste sulla costa tra 14 e 22 gradi, nell'entroterra tra 6 e 21 gradi.